Il concentramento è previsto per le 15 in piazza Politeama, da cui il corteo partirà in direzione di Palazzo dei Normanni. Sono migliaia le persone previste per questo pomeriggio al corteo Nomuos, che si terrà a Palermo, stime che probabilmente verranno confermate, prendendo in considerazione anche le precedenti manifestazioni che si sono tenute invece a Niscemi. Il centro di Palermo sarà dunque di fatto blindato, soprattutto in seguito a una nota del Ministero dell'Interno che ha segnalato l'arrivo di una cinquantina di black bloc. Ma al di là del rischio di vandalismi e di frange violente, hanno annunciato la propria adessione numerose associazioni, sigle sindacali, ma anche movimenti gemelli, come quello del Notav, più una serie di enti istituzionali, come il Comune di Palermo. Un sistema di sicurezza, quello allestito in occasione del corteo, che ha pochi precedenti in città. Le forze dell'ordine non confermano in maniera ufficiale, ma sarebbero circa 200 gli operatori arrivati da altre parti d'Italia per raffiancare il sistema di sicurezza cittadino. Le iniziative palermitane di protesta contro il MUS però in realtà sono già iniziate ieri con l'occupazione da parte di un gruppo di attivisti di Sala d'Ercole a Palazzo dei Normanni. Alcuni di loro sono infatti entrati come turisti e poi hanno occupato l'aula che ospita le riunioni dell'Assemblea. Un pomeriggio che si perannuncia caldo sul fronte della viabilità in diverse zone di Palermo. In contemporanea con il corteo, infatti, lo stadio Barbero ospiterà la partita del Palermo.